buonasera a tutti e benvenuti alla 277 serata di lodi liberale che anche nel quarto lunedì di luglio a come dirà fosissimo caldo e probabilmente in cui la buona parte di chi ci segue è in spiaggia o in relax o in vacanza noi invece abbiamo deciso come ormai nostro solito da qualche anno di proseguire fino a tutti i lunedì di luglio quindi avremo anche l'ultima serata lunedì prossimo perché perché crediamo lo dico ogni volta ma perché è importante perché spesso ci sono persone che magari è la prima volta che ci seguono perché crediamo che nel nostro piccolo stiamo svolgendo un importante funzione che quella di far conoscere diffondere spiegare coinvolgere i pensatori sul pensiero liberale in ogni ambito in ambito economico filosofico politico scientifico e quant'altro perché crediamo appunto che in generale ma soprattutto nel nostro paese ci sia bisogno di conoscere e diffondere e se sarebbe auspicabile applicare il pensiero liberale non è diffuso in ambito accademico non è sicuramente prevalente nel dibattito pubblico e non è purtroppo dominante per usare un eufemismo in ambito politico quindi è importante per poter arrivare a questi come dire obiettivi che credo possano essere auspicabili partire dalle idee dalla conoscenza e dalla diffusione delle idee perché perché ci probabilmente notiamo troppo spesso per scontato l'occidente quindi le libertà di cui godiamo e questa sera poi rifletteremo anche su questo il 90 per cento se non di più delle libertà e dei diritti cui godiamo sono conquiste delle dei liberali dei vari secoli che si sono succeduti in ogni ambito femminismo compreso perché ci dimentichiamo troppo spesso che le prime femministe erano delle liberali come lo facciamo lo facciamo alterando alternando serate in presenza serate su zoom alternando classici del pensiero liberale a libri di autori contemporanei sul momento di attualità o di carattere storico e quindi siamo particolarmente felici di tornare questa sera a discutere a presentare un libro di una amica e non ho problemi a dirlo e credo che neanche lei ce l'abbia una orgogliosa socia di l'odi liberale e noi siamo assolutamente onoranti di averti come socia da qualche anno fiamma niresta giornalista donna straordinaria divulgatrice donna coraggiosa ex parlamentare italiana peraltro ce ne dimentichiamo forse insomma era l'epoca in cui l'allora pdl valorizzava le migliori intelligenze presenti nel paese e poi gli cercava di farli arrivare anche a un parlamento dando appunto una voce a posizioni come le sue fiamma è un difensore delle posizioni di israele della libertà di israele del diritto di israele esistere da sempre lo sta facendo con articoli costanti con libri come quello che presentiamo questa sera che è uscito quest'anno si chiama 7 ottobre 2023 israele brucia e ha una densissima e bellissima presentazione crepazione di fiamma contiene poi tutta una serie di articoli che sono usciti sul giornale presso cui chiama scrive ormai da molti anni dal come lo sono segnato 27 gennaio 2023 fino al 2 gennaio del 2024 in più ci sono c'è una sezione finali suddivisi in prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre poi una sezione di memorie testimonianze eccetera lo faranno insieme a noi oltre che con fiamma che ringraziamo ludovica jacovacci che abbiamo avuto il piacere di conoscere qualche tempo fa a una delle nostre serate anche in presenza che è una straordinaria divulgatrice delle ragioni di israele sui social prevalentemente instagram ma non solo giovane come dire poterti definire attivista perché è un termine bello da questo punto di vista è sicuramente una che non si tira indietro quando ci sono da prendere posizioni scomode da difendere idee posizioni mettendoci la faccia e su un tema come quello di cui discutiamo stasera non è particolarmente facile quindi ringraziamo ludovica per la sua presenza e per il suo miglior coraggio è collaboratrice di magazine e tante altre cose insieme a noi per la prima volta ci sarà c'è anche giorgio sacerdoti professore merito di diritto internazionale all'università bocconi e molte altre cose e anche lui come dire cercheremo di fare una riflessione sul tema che cosa che cosa appunto è il libro il libro è un diario in qualche modo perché seppure una raccolta di articoli e proprio si vede l'evoluzione semplicemente in un anno perché poi appunto poco più di un anno di cosa è accaduto negli ultimi 18 mesi più o meno siamo 18 mesi 19 mesi ovvero da quando quella data spartiacque del 7 ottobre di minorità che io personalmente mi ricordo assolutamente perché ero al mare sono tornato in camera ho acceso la televisione nell'albergo e sono rimasto praticamente al posto di uscire assolutamente colpito dalla barbarie dall'orrore da quanto stava come dire già emergendo quella è una data sicuramente che sarà già da spartiacque perché si è vista all'opera la barbarie la crudeltà l'inciviltà l'essere umano degradato a bestia perché di altro non si può definire per quello che hanno compiuto questi esseri in punto in quella data nefasta nel libro vengono raccontate ricordate molti di questi aspetti sia in diretta che poi nella ricostruzione e credo che sia importante perché da allora è in corso quella che credo che possa essere definita come una sorta di linea di civiltà nei confronti da parte della società occidentale che purtroppo oggi è su due almeno su due fronti caldi fondamentali uno è quello ucraino dove si difende la legittimità di uno stato non essere invaso e aggredito e quindi l'importanza del rispetto ai trattati internazionali eccetera e l'altra sicuramente è una situazione di israele dove si sta combattendo contro hamas contro i terroristi di hamas una battaglia importante senza sconti e che è necessaria per continuare a garantire l'esistenza di dell'unico perché ce ne dimentichiamo troppo spesso stato che garantisce libertà diritti civili tutela delle minoranze lo stato in cui i palestinesi sono giudici i palestinesi siedono alla knesset i palestinesi hanno la possibilità di parlare di di opporsi e quindi sono tutte le libertà garantite in un momento in un paese come il nostro in cui invece troppo spesso ci sono università occupate da studenti estremisti perché tali non posso definirle difensori definiti pilo palestinesi ma probabilmente come dire non che non condannano non si sentono proprio ferme condanne nei confronti di ciò che c'è successo nei confronti di hamas che spacciano un'anti una posizione critica contro israele magari ammantandola anche la posizione politica nei confronti di opposizione nei confronti di del governo di vettagnau ma che invece sono antisionisti e buona parte anche antisemiti e è una posizione che purtroppo lo vediamo nelle manifestazioni molti paesi molte capitali d'occidente con questi slogan i vergognosi che siamo sentito risuonare nel corso degli anni nel corso dei mesi nelle nostre strade e in cui ad esempio si sentono accuse che sono vergognose oltre che false perché presentano veramente il ridicolo dell'utilizzo di termini come apartheid e genocidio applicati all'azione militare che stanno mettendo in campo israele per difendere la sua la sua esistenza è sicuramente un una come dire un'azione che ha come purtroppo è fisiologico che sia il termine pessimo ma ce ne sono difficilmente utilizzabili altri delle morti collaterali quindi vengono purtroppo coinvolti nelle uccisioni anche degli innocenti ma a causa di della situazione della struttura della conformazione del territorio di come dire di gaza perché ovviamente la differenza rispetto a i terroristi di hamas che sono andati deliberatamente per cercare di uccidere donne uomini malini vecchi in quanto ebrei israele sta compiendo un'azione militare alla ricerca e per colpire uccidendoli ovviamente i terroristi di hamas e non palestinesi giusto per e poi mi taccio giusto per ricordarci perché io vi assicuro di confesso che è la prima volta che ho letto leggendo il libro e preparandomi per la serata mi sono commosso almeno quattro cinque volte lo dicevo fiamma nella telefonata precedente al all'incontro perché leggere il resoconto di quanto è successo parola dopo parola mettendoli in fila e non poti davvero fare molto male e volevo come dire leggere una una delle citazioni tratte al libro poi lasciare la parola al gruppo di cagliari maci nessuno può spiegare come si possa decidere di tagliare le braccia di una bambina di otto anni e lasciarla tremare per ore immersa nel suo sangue finché muoia se non spinti da una folle ambizione trascendentale nessuno può spiegare come si possa uccidere la madre il padre di forte a una bambina di tre anni e poi caricarla su un'auto per rapirla da sola eppure tutto questo è successo né si può spiegare come si possa fare una strage di un gruppo di ragazzine sedute tutte insieme in un nascondiglio mentre si tengono le mani l'una con l'altra per farsi con eppure anche questo è accaduto noi siamo qui a cercare di farne per sempre testimonianza perché il negazionismo come quello della shoah è la forma più classica di riabilitazione dei vostri e lo sfondo anche odierno al più agguerrito antisemitismo credo che sia importante continuare a ricordare continuare a raccontare continuare a leggere questi obbrovi questi e queste barbarie perché si possa acquisire consapevolezza appunto di quello spazio decisivo per israele ma non solo per tutti noi che è stato appunto il 7 ottobre 2020 quindi ringrazio ancora una volta gli ospiti chiedo di mutare quando non parlano così meno evitiamo l'effetto eco e cedo subito la parola a Ludovica a cui chiedo invece di attivare l'audio perché per i momenti disattivato grazie a te grazie 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 per avermi invitata eh l'incontro di questa sera e la pubblicazione di questo libro eh sono ehm fondamentali per parlare di un tema che è tutt'altro che scontato ovvero quello che è successo il 7 ottobre il titolo è molto emblematico 7 ottobre 2023 e il sottotitolo rappresenta non solo eh quello che è successo il 7 ottobre ma purtroppo anche quello che continua a subire il paese ovvero israele brucia Israele eh è bruciata il 7 ottobre e continua a bruciare dopo dopo eh nove mesi eh da da una data storica non solo per questo paese ma eh per per l'intero mondo e eh per anche il futuro del mondo libero perché la guerra di Israele e questo in questo libro è molto puntuale non è eh solo esclusivamente di Israele ma è una ehm guerra di eh liberazione contro ehm eh fanatici e ehm un tipo di ehm religione e credo preoccupante ehm anche la copertina è molto emblematica perché la la bandiera di Israele viene incenerita quindi torna eh il simbolo eh della cenere questo perché il 7 ottobre ha rappresentato una data nella quale eh il più grande numero di ebrei è stato eh ucciso da dai tempi della della Shoah ehm sono per il lavoro di giornalista che eh Fiammanire Stein svolge eh in maniera egregia eh l'utilizzo delle parole e la scelta di termini e dei simboli è emblematica quindi eh pur sia vero che un libro non si giudica dalla copertina è già dalla copertina che ehm la giornalista l'autrice eh ha ha voluto mandare un un messaggio molto netto ehm a seguito anche di come poi il 7 ottobre è stato è stato visto il libro è molto dettagliato è molto crudo su quello che è successo è oggettivo su fatti incontrovertibili che però ehm da quella data in poi sono stati messi in discussione da una determinata parte dell'opinione pubblica da una determinata parte della politica eh e soprattutto anche soprattutto dai vertici internazionali eh l'ONU l'Unione Europea che ehm dovrebbero avrebbero dovuto insomma rappresentare eh una risposta sicura per per Israele eh non sono stati in grado di eh diciamo ricoprire questo questo ruolo di di certezza e è stato eh purtroppo eh da da una determinata parte addirittura messo in dubbio quello quello che è successo è per questo che questo libro eh è così importante perché delinea in maniera netta quello che il 7 ottobre è stato quello che il 7 ottobre ha rappresentato e stimola poi anche insomma una profonda riflessione su quello che noi tutt'oggi stiamo stiamo vivendo e che sicuramente tra altri anni eh torneremo ehm torneremo a riparlare di di questi temi non smettiamo mai eh di farlo ehm l'incredibile diciamo sconvolgimento di eh di quello di quello che è accaduto in Israele una solidarietà che dopo il 7 ottobre è durata molto poco per il popolo ebraico è stata assolutamente apparente e come una ruota della fortuna in qualche modo ha portato eh quei luoghi della cultura quei luoghi eh a volte purtroppo anche del del sapere di un determinato quantomeno tipo di di sapere politicamente orientato a eh ribaltare le carte a eh sostenere addirittura eh il terrorismo di Hamas o a sostenere addirittura eh la loro la loro azione che da una determinata parte viene appunto vista come come resistenza eh da questo punto di vista è anche eh interessante notare il ruolo della stampa che in questo tempo i giornalisti hanno hanno ricoperto nel parlare di questo conflitto perché eh se nell'opinione pubblica eh italiana ma anche mondiale ehm questo libro si si rivela necessario eh è perché proprio eh c'è stata una sorta di ehm di messa in discussione di ehm orientamento eh culturale di lettura della storia eh molto eh a mio avviso distorta eh rispetto non solo alla contestazione storica ma anche fattuale ma anche attuale eh di quello di quello che che avviene tutt'oggi tutt'oggi nella nella regione ehm e quindi ecco ehm tornare a fornire libri testimonianze prove eh di ciò che da larga parte se non totale parte del mondo arabo e eh islamico viene negato ovvero eh gli stupri i massacri eh che che sono stati che sono stati compiuti ehm questi elementi di eh di storia di contemporaneità anche eh determinano un un andamento necessario perché mettono alcuni punti sui quali non non si può assolutamente vacillare eh ovviamente al centro di tutto questo eh c'è c'è il popolo ebraico e c'è eh diciamo una fiamma che è tornata a a esplodere ovvero quella del dell'antisemitismo un antisemitismo che eh nel corso del tempo eh a volte ha assunto eh la 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 maschera diciamo di antisionismo eh e che eh e di quale del quale oggi noi siamo diciamo i massimi testimoni chiunque viva i nostri i nostri giorni è primo testimone di questo di questo rovesciamento di parole anche di questa un po' mistificazione di parole che gioco di parole che che viene fatto la difesa dei diritti umani è diventata un baluardo per fondamentalmente ehm legittimare la l'annientazione dell'altro eh sulla base di questa di questa ragione politica eh si sviluppa eh il discorso eh non solo eh del messaggio del libro ma anche della politica che eh a livelli internazionali si sta in questo tempo ricoprendo e da parte eh di di istituzioni e di figure specifiche figure che coinvolgono anche direttamente il nostro paese tra l'altro eh fortemente discutibili eh in in ampi vertici e quindi che eh fanno sorgere delle delle domande fanno sorgere delle domande sul futuro eh del del mondo democratico e eh sul futuro del delle delle democrazie e della politica eh in generale quanto eh la mistificazione e la non comprensione di ciò che sta facendo Israele oggi potrà poi eh in realtà già ha dei danni su eh sulle altre società eh questo proprio perché eh quello che la guerra di Israele e l'azione eh di di difesa di Israele è posta all'interno di un contesto eh molto peculiare che è quello del Medio Oriente ma anche proprio di un contesto ehm prettamente culturale e che richiama sicuramente determinati messaggi come eh quello problematico dell'antisemitismo, le eh manifestazioni d'odio che abbiamo visto dal 7 ottobre in poi non contro coloro che il pogrom lo avevano fatto, quindi non contro eh il palestinesi o contro gli arabi o contro gli islamici. Bensì eh ecco eh da pochi giorni dopo già si pensava a quella che sarebbe stata la risposta la risposta di Israele e questo perché c'è una mistificazione e un'equiparazione eh che purtroppo viene fatta dalla nostra parte di mondo, dalla parte del mondo occidentale, ovvero la parte apparentemente più debole viene confusa con quella che eh che ha ragione. questo porta eh determinate eh fasce della politica a identificarsi in eh lotte che sono tutt'altro che resistenza, che sono tutt'altro che eh lotte di liberazione, ma che sono terrorismo puro e che vedono al centro, proprio in questo caso specifico, l'alentazione del degli ebrei. Hamas ha eh dei eh dei chiari eh messaggi eh politici eh il suo non è la sua non è solo un'azione però prettamente politica o prettamente territoriale. È una questione religiosa, è una questione identitaria, è un'azione che muove eh su queste basi e le descrizioni di ciò eh che è stato fatto il 7 ottobre che emergono dal libro sono inequivocabili su questo. C'è eh il il desiderio e ehm purtroppo in parte la la riuscita eh di ehm sterminio eh di un di un determinato popolo attraverso eh delle azioni eh feroci disumane che vanno molto al di là della guerra, vanno molto al di là della guerra convenzionale, dell'uso o meno di armi, vanno contro i corpi delle donne, vanno contro eh l'annientare la dignità delle persone, vanno contro l'innocenza dei dei delle bambine eh e dei bambini israeliani eh strappata da dalla brutalità dei terroristi e tutto questo non può essere minimamente eh configurabile all'interno di un contesto quanto meno eh di guerra convenzionale per così dire. Ed è proprio per questo che eh insomma il 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 ragionamento eh poggia anche insomma su su questo eh castello ovvero sull'interrogarsi eh su quanto le le i vertici internazionali e le istituzioni abbiano potuto eh o non potuto eh fare qualcosa e tutto questo dovrebbe profondamente farci farci interrogare nel mondo nel quale tutt'oggi stiamo vivendo e nel quale saremo portati a vivere come eh un tipo eh di eh di di politica occidentale si sposi perfettamente con l'islamismo, si sposi perfettamente con l'estremismo ehm eh religioso che in questo caso è globalizzato all'intera religione e questo perché eh i cosiddetti musulmani moderati non hanno minimamente toccato palla in questo contesto non hanno preso posizione eh non ci sono state manifestazioni di pace eh da parte loro non c'è eh quantomeno una condanna unanime eh contro Hamas tutt'altro il popolo palestinese è eh sempre più vicino al Hamas eh due terzi secondo gli istituti palestinesi di sondaggi credono eh che due terzi dei palestinesi credono che il 7 ottobre sia stato un evento giusto e questo dovrebbe profondamente anche far eh interrogare eh su come ehm purtroppo a volte eh una determinata parte porti a eh parte politica porti a difendere posizioni indifendibili che eh nel nostro mondo stanno sempre prendendo più piede questo libro è un libro di testimonianza è un libro ehm assolutamente eh che delinea una una realtà vera una realtà basata su fatti su fatti oggettivi ehm e che eh del quale sicuramente eh da qui in poi avremo sempre più bisogno per ricordarci quello quello che è stato il 7 ottobre eh come al 7 ottobre eh si è reagito e sicuramente ne ne continueremo a parlare purtroppo per il tempo a venire grazie a Ludovica che ci ha come dire ricordato l'importanza di leggere e l'importanza di come dire di di ricordare e di approfondire esattamente il contenuto di quanto è accaduto eh al appunto in quella data assolutamente spartiacco eh credo che sia importante ricordare davvero ehm quello che invece cerca di essere negato da troppi cioè gli stupri cioè le donne in corpi delle donne martoriate le violenze sessuali su corpi vivi e morti di donne la decapitazione di bambini e neonati e quindi l'odio cieco e l'orgoglio con cui eh questi queste bestie hanno rivendicato appunto l'uccisione lo 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 sgozzamento il la distruzione del corpo la violazione del corpo di queste persone eh appunto donne anziani e bambini compresi solo eh esclusivamente in quanto ebrei perché appunto è citati da una da una ideologia di morte da un pensiero se così si può essere definito terrorista che non vede un avversario non vede come dire rivendicazioni politiche geografiche nazionalistiche ma vede semplicemente appunto eh da una parte il bene e dall'altra il male e in questo caso nelle loro teste malate frutto di indottrinamenti frutto di eh politiche anche 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 qui eufisticamente definibili educative nei confronti dell'infanzia come appunto definibili gli ebrei come il male assoluto come il male da estirpare dalle facce della terra a qualunque costo e dovunque e e questo davvero è qualcosa che pensavamo davvero lo ricorda anche Fiamma eh parlando vuol dire dell'esperienza personale della sua famiglia eccetera che dopo quanto è successo con la Shoah con l'olocausto mai più mai più sarebbe potuto accadere una cosa di questo tipo mai più avremmo potuto vedere la caccia all'ebreo perché quella eh c'è stata e invece ci siamo svegliati una giorno di ottobre dell'anno scorso per renderci conto che purtroppo questi episodi sono ancora possibili perché esistono queste organizzazioni terroristiche che eh volenti o se si vuole davvero garantire il diritto a un popolo a uno stato a delle persone di poter vivere in relativa tranquillità perché chi vive in Israele oggi come Fiamma non credo che possa eh definirsi sicura né oggi né prima ma insomma per poter garantire lo sviluppo la creatività l'imprenditorialità il benessere la garanzia di ricchezza la tutela delle diversità che questo paese eh è riuscito a mettere in campo ormai da decenni e quindi per poterlo fare l'unico modo è eh volenti o volenti l'utilizzo della violenza per eh sconfiggere uccidere e annientare questa organizzazione terroristica e loro leader capi i loro strumenti e le loro persone dovunque si nascondano eh riusciamo a dover sentire a sentire Giorgio Sacerdoti che tra le varie cose è anche presidente del DEC che è il centro di documentazione ebraica contemporanea abbiamo già avuto il suo direttore Gadi Luzzato Boghera qualche tempo fa in presenza per fare una serata sulla brigata ebraica e quindi siamo felici di averlo magari chiedendo di mettere in orizzontale il telefono così riusciamo a vederlo un po' meglio eh esatto perfetto e siamo felici di avere con noi Giorgio Sacerdoti a cui cedo la parola chiedendo di attivare il video, l'audio e di non muovere la telecamera se no siamo sulle montagne russe. Grazie. Ecco, buonasera, riuscite a sentirmi? Perfettamente, se poi riuscissi a togliere il dito dalla telecamera ti vedrò molto bene. Scusa, eh sì, in effetti scusate, ho qualche problema con questo cellulare, continua la posizione verticale. Va bene così, prego, prego. Va beh, insomma, allora io naturalmente cerco di parlare con le mie competenze anche di esperto di diritto internazionale guardando alla vicenda di Israele e la questione dei rapporti dell'aggressione di Hamas del 7 ottobre e il suo seguito. Ma soprattutto bisogna vedere, per direi, eh la reazione che c'è stata in Occidente, insomma, perché eh una cosa è lo scacchiere militare dove Israele eh risponde giustamente all'aggressione e in legittima difesa e e conduce una guerra che purtroppo eh provoca molte vittime civili perché Hamas, come sappiamo, ha trasformato il gas in una fortezza. Eh si nasconde nei tunnel eh sotto ospedali, scuole, abitazioni civili. Usa i civili come eh scudi umane che continuamente vengono scoperti tunnel che partono eh d'abitazioni civili e i pochi ostaggi che sono stati liberati abbiamo visto eh che erano diciamo così ospitate in case eh di civili. Quindi la distinzione eh che sarebbe giusta eh diventa una distinzione di comoda tra civili innocenti e invece civili che partecipano attivamente volenti e non volenti eh alle azioni di Hamas. Ecco, naturalmente non è nuovo purtroppo che la reazione in Occidente non è la reazione che uno si aspetterebbe di essere vicino alla vittima e di solidarizzare con Israele eh ma diventa rapidamente invece di nuovo un attacco Israele e Israele di nuovo si trova eh isolato eh nell'opinione pubblica. Eh la solitudine di Israele è una bella espressione accusato Henri Bernard Levy eh di recente esprimendo la sua solidarietà in Israele. Io ero a Tel Aviv a una di quelle manifestazioni per liberare per la liberazione degli ostaggi proprio quando lui era lì eh e ha parlato eh alla folla riunita eh il sabato sera. Quindi eh cosa si deve fare in questo confronto? Certo c'è molta malafede eh c'è molto ritorno di un antisemitismo mai sopito che ha eh varie eh matrici eh ma qui c'è questa matrice di insofferenza eh da parte di un'opinione pubblica che è prevalentemente di sinistra forse di estrema sinistra eh che si vuole eh terzo mondista vicino ai popoli oppressi cosiddetti cioè si rivedono degli slogan che credevamo passati da alcuni decenni perché il mondo è molto cambiato e il terzo mondo è un concetto che non esiste più eh i paesi sono molto diversi la Cina, l'India, Sud Africa, l'America Latina e certo per la maggior parte di questo la questione israelo-palestinese non è certo una eh preoccupazione di primo piano se non da usare strumentalmente come ha fatto Sud Africa imbastendo una causa contro Israele alla Corte internazionale di giustizia e quindi abbiamo questo indottrinamento superficiale eh che non vede Israele le vittime un paese che da decenni cerca di affermare il suo diritto di vivere in pace nel Medio Oriente con i suoi vicini cui alcuni risultati importanti sono stati ottenuti non dimentichiamo la pace con l'Egitto, con la Giordania, i paesi eh confinanti più importanti, gli accordi di Abramo con i paesi del Wolfo, il Marocco e altro, i rapporti sotterranei eh non ostili con l'Arabia Saudita ma c'è questo apporto di vedere eh i palestinesi come una minoranza oppressa che dovrebbero avere la solidarietà eh occidentale o di di questi eh movimenti indipendentemente da chi li rappresenta e da chi agisce in suo nome che attualmente è come è stato detto ben prima da Ludovica ed è scritto bene nel libro un'organizzazione terroristica ormai radicata da decenni finanziata internazionalmente dall'Iran, da Hezbollah e che quindi eh costituisce una minaccia grossa per Israele. Quello che non capiscono molti è che eh e forse è stupito anche noi all'inizio. Noi eravamo abituati alle guerre che Israele vinceva in sei giorni. Qui è una guerra che si prolunga da mesi e mesi e in cui Israele non riesce ancora a dominare eh un territorio che forse è grande metà della città di Milano fittamente abitata dove questi terroristi hanno costituito un governo di legalità eh ormai da decenni. Quindi Israele purtroppo si trova eh davanti a un'opinione pubblica diciamo anche in Occidente noi faccio un discorso più largo insomma noi noi rispingiamo l'idea che il mondo oggi non è un mondo non lo è mai stato pacifista di anime belle in cui tutti si vogliono bene. L'Europa purtroppo è stata a noi abbiamo goduto di decenni di pace ma questo c'è anche un po' narcotizzati e quando abbiamo visto i carri armati di Putin pronti al confine eh eh dell'Ucraina due anni fa non volevamo crederci che veramente eh quel paese avrebbe aggredito il suo vicino l'Ucraina di sorpresa come Hitler fece con l'Unione Sovietica nel 1941. E così respingiamo anche l'idea che eh che purtroppo in Medio Oriente c'è una guerra, una guerra giusta per difendere le ragioni dell'esistenza eh dello Stato di Israele e degli israeliani che ancora dopo decenni viene messa eh in discussione aggredita violentemente e non è solo il 7 ottobre che c'è stato e quindi fa comodo dire eh c'è stato il fuoco subito basta non sparino più le armi, cessino i morti e poi però eh la soluzione del problema si mette la testa eh diciamo sotto la sabbia e si lascia da altri e si passa alla prossima generazione. Quindi la propaganda, la contropropaganda che non è propaganda ma è propagazione della verità eh che bisogna fare è sicuramente un'opera un'opera difficile, c'è un indottrinamento superficiale, però voglio dire anche io che c'è una una parte importante di opinione pubblica della stampa eh degli opinion American e della politica a destra e centro e anche a sinistra che resiste a a questa vulgata eh così semplicistica insomma i grandi giornali italiani sono ben più equilibrate se non eh pro Israele coprono obiettivamente la realtà e quindi io quando intervengo dico anche eh non piangiamoci addosso troppo non vediamo un mondo tutto nero e ostile eh che odia gli ebrei, odia Israele, odia coloro i quali vogliono portare elementi di obiettività ma vediamo anche tutti quelli che eh eh vogliono documentarsi, vogliono essere seri, esprimono anche solidarietà e soprattutto respingono questa eh eh questa facile eh eh si evita di fare una critica di entrare nella valutazione di cose complesse come una questione di equilibri diplomatici, politici, militari eh per delle soluzioni così facili in cui eh la critica a Israele diventa antisionismo, diventa radicale, odio ad Israele, questo diventa anche eh eh incentivato e diventa odio antisemita, mette in pericolo eh anche gli ebrei nelle nostre comunità in Europa e in altri paesi si fa di tutto un erbo un fascio ed è sicuramente un combattimento difficile per la verità e è un centro liberale come il tuo è veramente da ruotare eh per questo eh impegno costante. Grazie. Grazie a Giorgio Sacerdoti e prima di lasciare la parola a Fiamma Nerestein mi consentirete di fare una citazione che è un po' lunga ma è importante perché non c'è solo l'orrore, non c'è solo la barbarie, ma Fiamma documenta anche bene gli atti di eh non possono essere definiti diversamente da eroismo, cioè delle persone che al 7 ottobre hanno deciso di eh di reagire e di intervenire eh personalmente. Ho parlato con decine di ragazzi che hanno afferrato quello che hanno trovato, un coltello, un bastone a fronte dei mitra degli invasori e sono usciti fuori dalle case assediate per difendere madri e bambini dei terroristi. Un padre che da una distanza di centilane di chilometri si è precipitato al kibbutz dove viveva la figlia e l'ha strappata alla morte come un pazzo, riuscendo a farla fuggire dalla finestra posteriore della casa dove era assediata. Una madre che, mentre i terroristi sparavano e torturavano, ha seguito ovunque il figlio che nel kibbutz si avventurava cercando di salvare chi poteva e dietro di lui c'era lei a raccogliere i feriti. E quando il figlio è stato colpito lui stesso l'ha trasportato a casa ed è uscita di nuovo a salvare altri ragazzi. Una donna anziana che in casa ha tenuto a bada, dandogli da mangiare una banda di terroristi, salvando con la sua calma a tutta la famiglia finché sono arrivati gli aiuti. Ho intervistato un uomo che con una gamba ormai staccata dal corpo ha resistito per una decina di ore facendo da scudo alla sua famiglia finché non ha visto morire il figlio e la moglie crivellati di colpi. Quasi del tutto dissanguato ha resistito e ha terminato a salvare almeno la figlia. Credo che sia, come dire, importante renderci conto di cosa è stato con queste parole perché probabilmente troppo spesso lo vediamo lontano, non ci rendiamo conto di, cioè sembra una cosa quasi fisiologica, come qualcosa che è caduta, sono cadute tante barbarie nel corso degli anni nel mondo e questa è una di quelle. No, ha una sua specificità, ha una sua peculiarità e la seconda, e qui la citazione sarà più breve, ma denota e fiamma lo ripete spesso nel libro perché è importante, perché questo probabilmente non ci abbiamo riflettuto mai abbastanza. La differenza rispetto all'atteggiamento, all'approccio, alle azioni degli nazisti durante l'olocausto che naturalmente facevano ciò che hanno compiuto ma in qualche modo erano quasi mossi da vergogna, da orrore, per poter superare ciò che avevano compiuto e che quindi in qualche modo la coscienza stava ovviamente facendo notare, dovevano riempirsi di alcol a livelli assolutamente terribili e non ci sono mai vantati, anzi hanno cercato di tenere nascosto quanto avevano compiuto appunto nella consapevolezza che era un qualcosa di assolutamente negativo. E qui siamo assolutamente in maniera diversa e opposta perché non solo se ne sono vantati e non è nascosto ma lo hanno filmato, lo hanno poi pubblicato e diffuso sui social e c'è appunto anche un filmato di una cinquantina di minuti che Fiamma ha visto e non solo lei io purtroppo non ancora, non so se avrei la forza di riuscire a vederlo ma insomma dove si vede dalla prospettiva di queste bestie esattamente ciò che è accaduto. Durante la Shoah i nazisti nascondevano lo sterminio degli ebrei, ci sono voluti anni per individuarne la dimensione e la crudeltà. I pervertiti terroristi di Amassi si sono invece messi sulla fronte le telecamere, hanno filmato il loro genocidio gestito con fantasia a persona, Yehud, Yehud, bambino per bambino, ragazza per ragazza, per poi postarlo su TikTok, Instagram, Facebook. Hanno documentato come davano fuoco ai bambini davanti agli occhi della madre e viceversa, come violentavano le ragazze e poi le ammazzavano, come stupravano le bambine e le vecchie in pigiama e sventravano le donne incinte, come hanno tagliato la testa a centinaia di persone e non contenti poi hanno usato le armi più taglienti per farle a pezzi e per strapparle gli occhi. Grazie Fiamma per averlo scritto, documentato e per averci dato la possibilità di discuterne questa sera. A te la parola, devi mutare, devi attivare l'audio in basso a sinistra e poi ti ascoltiamo. Grazie. Grazie Lorenzo di questo invito, molto gradito, avrei voluto essere lì in persona. Purtroppo la situazione in cui viviamo fa sì che il mio libro sia un libro in the making. Siamo continuamente in una situazione in cui ogni giorno cambiano le cose e questo compito di registrare, ricordare, elaborare è un compito che di giorno in giorno purtroppo si arricchisce di nuove esperienze, di nuove memorie. Oggi è arrivata la notizia di altri due fra i rapiti che sono nelle mani dei terroristi che purtroppo sono stati dichiarati morti, uno sui 70 anni e quell'altro invece un giovane. Le loro fotografie le abbiamo riviste, vediamo tutti i giorni, fra quelle che ancora abbiamo dei sopravvissuti, invece purtroppo sopravvissuti essi non sono più. E non passa, e quindi le memorie delle persone che li hanno amate, che li stavano attendendo fino a ieri, che oggi non li possano più aspettare. E ancora c'è giorno dopo giorno una quantità di elaborazioni, di memorie, di pensieri veramente paragonabili a tutto ciò che si riesce a mettere insieme dietro in seguito a un'esperienza epocale, una di quelle che appunto cambiano il modo di pensare, cambiano e svoltano le civiltà e le fanno approdare su nuovi terreni. Grazie anche a Ludovica e a Giorgio hanno detto ambe due cose molto interessanti. Io mi limiterò appunto a dire che prima di tutto questo libro ha il compito che avete tutti un po' sottolineato e Lorenzo in particolare, ovvero quello di portare memoria e che lì sia questa memoria di ciò che è accaduto. E questo è quello che è accaduto perché il negazionismo non è un fenomeno nuovo, va bene? È un fenomeno di cui abbiamo purtroppo fortissima consapevolezza per quello che riguarda la Shoah. Uno si può domandare e si poteva domandare il perché i movimenti negazionisti avessero una tale spinta, fossero così sostenuti per esempio anche dall'Iran che ha addirittura nel passato convocato, ve lo ricorderete probabilmente, conferenze negazioniste sull'Olocausto a Teheran. Ecco adesso si capisce il significato del negazionismo. Nel momento in cui interi movimenti interessati alla sparizione dello Stato di Israele e all'uccisione degli ebrei nel loro insieme, diciamo così, dominati da un'ideologia antisemita alle volte travestita da critica allo Stato di Israele e insistono nel negare per esempio e ancora sta capitando, ancora capita nonostante purtroppo le testimonianze siano talmente numerose ed evidenti come quelle per la Shoah peraltro, sempre mutatis mutandis e nelle dimensioni che competono a ciascuno dei due fenomeni. Tuttavia appunto il fenomeno per cui si cerca di negare un evento effettivamente accaduto laddove il suo contenuto è un'immensa crudeltà razzista, impensabile, non disegnabile, persino quando come ha ricordato Lorenzo è stata testimoniata dai perpetratori stessi che hanno fatto tutto portando delle telecamere perché questo restasse e ancora lo rivendicano personalmente, l'hanno rivendicato già molte volte. Tuttavia questo movimento negazionista così forte ha uno scopo fondamentale, è uno scopo a carattere genocida, ovvero ciò non è avvenuto, chi adesso porta guerra e vive in questa guerra di sopravvivenza, perché la nostra qui è una guerra di sopravvivenza e questo è del tutto evidente a chi abbia capito, sappia, ammetta ciò che ci è stato inflitto, ma chi invece non lo ammette come la vede questa guerra? La vede come un'ennesima prova della crudeltà, l'aggressività, il razzismo, il colonialismo, l'imperialismo e chi tutti quanti più ismi riusciti a mettere in fila funzioneranno tutti quanti perché sono stati costruiti con pazienza nel corso del tempo esattamente su una linea parallela a quella per cui si è invece costruito nel tempo la decisione sempre più concreta, sempre più arricchita di denari e di armi di distruggere lo Stato di Israel. Cioè i due fenomeni ideologico-politico e militare da parte di Hamas vanno perfettamente in parallelo e insieme a Hamas tutti quanti gli altri fronti cui qui è stato accennato per esempio l'altro proxy iraniano che dal 7 di ottobre ha preso le armi per affiancarsi a Hamas ovvero gli Hezbollah e poi quello ancora che qualche giorno fa appunto ha bombardato Tel Aviv e poi ieri appunto è stato bombardato a sua volta sul porto di Hodeida a 2.000 chilometri di distanza paese lo Yemen che non c'entra assolutamente niente con Israele che non ha nulla da rivendicare da Israele avrebbe soltanto da guadagnare da un buon rapporto con Israele su tutti i terreni quello della scienza dell'acqua dell'agricoltura e invece no siccome l'Iran ha messo in piedi questo immenso fronte di sette che ha sette che ha sette diversi confini diciamo quello interno quello 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 iraniano naturalmente innanzitutto dove anche si prepara la costruzione ormai da decenni dell'arma atomica quello degli Hezbollah quello di Hamas finanziato e armato in tutti i modi la parte irachena sciita che però diventa sempre più alleata anche di quella parte sunnita più estremista altri gruppi presenti in paesi medio orientali che hanno interesse ad allearsi appunto al potere sciita ecco che tutto questo ha disegnato questo fronte genocida che ha fatto una sua prima sortita di massa il 7 di ottobre e che subito ha detto ma cosa questo è una prima sortita ne stiamo già preparando altre e poi altre e poi ancora altre questo è quello che è stato rivelato diciamo così questo è ciò di cui Israele paese moderno liberale dedito alla pace fin da quando nel 1948 accettò la partizione che gli arabi non accettarono e subito attaccarono e via via nel corso degli anni tutte le volte che da Camp David a tutte le altre varie opzioni di pace e soprattutto nel 95 quella degli accordi di Oslo che oggi se li guardiamo indietro già subito ci saremmo dovuti accorgere del fatto che non potevano funzionare per motivi ideologici dato che immediatamente dopo nel 2001 Arafat lanciò quell'intipada in cui morirono quasi 2000 ebrei sugli autobus nei ristoranti per le strade anche qui cittadini cittadini innocenti che furono uccisi nel corso della loro vita quotidiana proprio come i poverini che nei kibbutz di confini a Sderot nelle cittadine sono stati a dire uccisi è ancora una parola gentile rispetto alla sorte che che hanno dovuto subire e su cui appunto ci siamo documentati giorno per giorno anche andando a parlare con i loro cari ovunque insomma questo era possibile proprio per raccoglierne per raccogliere non solo la memoria ma l'incredibile esperienza per esempio un altro elemento totalmente nuovo oltre al fatto che come dicevi te come scritto nel libro rispetto prendo sempre questo parametro della Shoah oltre al fatto appunto che c'è questa questo entusiasmo ideologico religioso per cui la cosa non solo viene dichiarata ma viene anche filmata ma viene anche dichiarata in tutto il suo intrinseco odio razzista quando questi urlavano Yehud Yehud urlavano ebreo ebreo mentre ammazzavano e c'è la famosa telefonata di quello che chiama la sua mamma e gli dice mamma ho ucciso i miei ebrei e la mamma tutta contenta che gli dice vorrei anche io essere lì testimoniando appunto questo indottrinamento che sin dalla più tenera infanzia ha fatto di Gaza da cui appunto fino all'ultimo ebreo sono usciti tutti quanti nel 2005 quella occupazione che Israele peraltro non avrebbe mai voluta fare a cui fu costretta dall'Egitto ma questa è un'altra storia e ne parleremo un'altra volta ma comunque questo territorio appunto che poi è diventato una zona nazificata nazificata nel senso che non c'è stato altro che questo terribile indottrinamento peraltro peraltro sostenuto con tutte le proprie forze da questa organizzazione paradossale che è l'UNRWA dico paradossale perché è l'unica organizzazione per rifugiati naturalmente finanziata dall'ONU che non prevede una conclusione in genere appunto tutti i rifugiati tutti gli esuli trovano una sistemazione invece l'UNRWA è fatta apposta per conservare le chiavi o supposte tali delle chiavi le chiavi da cui delle case a cui i palestinesi sarebbero state cacciate da suscitare in loro quello spirito di rivincita che sempre di più e sempre di più negli anni ha acquisito la tinta religiosa che Hamas ha saputo comunicare che sempre di più si è estesa anche a tutto lo spazio relativo all'autonomia palestinese autonomia palestinese che a sua volta è sempre in seguito agli accordi di Oslo ma già a partire anche da qualche anno prima è stata completamente sgomberata anche quella quando si parla di occupazione non si sa più veramente di che cosa si stia parlando non esiste una sola città palestinese in cui si sia mai più visto un israeliano la popolazione palestinese è completamente assestante libera per il 98% tutto quello che ancora sussiste di suddivisione quelle mura oppure quei biader come si dice quelle zone di suddivisione che ancora esistono sono puramente legati a dei motivi difensivi perché questo afflato religioso terroristico islamista è tale per cui non c'è zona di abitazione palestinese né nell'autonomia palestinese né tantomeno a Gaza che si possa considerare in una comunicazione positiva con lo stato di Israele da lì vengono quotidianamente soltanto attacchi terroristici e nient'altro ogni tentativo da parte di Israele di arrivare a quella soluzione prevista agli accordi di Oslo con un'immensa ingenuità e con una vista e con una visione della questione indotta proprio da ciò che è la mentalità liberale progressista per cui la pace è un valore buono in sé per sé non funziona non ha funzionato ha fallito fino a che ci siamo trovati a dover verificare fino a che punto ha fallito ha fallito fino al punto che lo stupro accompagnato dalla morte è stato utilizzato come strumento bellico di massa anche questo guardate che nemmeno i nazisti ne hanno fatto un uso palese di questo genere peraltro in questo caso proprio scritto su un foglietto ognuno di questi terroristi era stato fornito di indicazioni su che cosa doveva fare o non fare questa era una delle cose che erano che erano state indicate accanto a tutto questo ecco noi ci siamo trovati a questa immensa esplosione di antisemitismo questa immensa esplosione di antisemitismo di cui tutti quanti avete parlato e che nel libro appunto viene raccontata io sinceramente dire che mi sono stupita sono stupita delle dimensioni e non però certamente del fatto che l'antisemitismo contemporaneo sia diventato dopo essere stato nei secoli prima religioso poi razziale si è poi diventato odio per lo stato israele ci ho scritto sopra quattro libri e quindi di conseguenza era una questione che anche questa era possibilissimo vederla realizzarla perché perché questo fin dai tempi dell'unione sovietica su israele sono stati messi tutti quei tutti quegli aggettivi che accennavo prima e che ne fanno appunto un paese oppressore e questo elemento della oppressività mondiale è stato immediatamente poi adottato dalle istituzioni internazionali che avrebbero dovuto invece salvaguardare la pace e la libertà facendo di israele un criminale continuo l'onu dedica più risoluzioni di condanna a israele che sommandole insieme alla cina alla russia all'iran e chi più ne ha più ne metta israele dal dai tribunali internazionali l'icj e l'icc in questi giorni è stato condannato tre volte il primo l'icc che ha comparato netanyahu assinuare e non voglio nemmeno non voglio nemmeno commentare questo orrore concettuale su cui peraltro invece lì sono stati portati prove raccolte e nello stesso modo in cui si raccolgono poi le prove da parte dell'icj l'altro tribunale per dimostrare che israele è un paese di apartheid è un paese genocida è un paese che ha tentato di uccidere affamando la popolazione palestinese sono tutte delle bugie così palesi e la cui il cui contenuto menzognero è stato dimostrato in maniera così cogente che è persino tragico doverci ritornare sopra perché è tragico perché attraverso questa operazione di antisemitismo politico istituzionale si mettono in crisi e gli si leva ogni potere e ogni senso proprio quelle istituzioni internazionali che avrebbero dovuto essere le custodi di quella intanto della legalità internazionale e poi anche della religione del nostro tempo che è quella dei diritti umani invece facendo di israele il criminale e invece di paesi che palesemente praticano criminalità internazionale ad ogni ad ogni momento come l'iran per esempio o la Russia o la Cina non si fa altro che togliere ogni buonsenso ogni caratteristica di potersi mettere in relazione a queste istituzioni in maniera tale per cui si sa che c'è un custode quando tu pensi che l'UNESCO va bene contro ogni comune buonsenso ha stabilito a suo tempo anche questa è naturalmente un'istituzione onusiana che come tutte persegue la stessa politica votata da quella maggioranza automatica che fu messa in piedi a suo tempo dall'Unione Sovietica e che tuttora tiene che l'UNESCO ha votato che Gerusalemme è la capitale dei beni musulmani e ha attribuito tutte le sue caratteristiche artistiche storiche alla storia dell'Islam e questo ti lascia talmente basito pensando al fatto che non solo nella storia degli ebrei Gerusalemme è la capitale del pensiero del sentimento e del ritorno va bene in una storia che è lunga 3.000 anni e che dall'Ottocento vede a Gerusalemme una presenza maggioritaria di ebrei proprio dal punto di vista della conta delle persone che ci vivevano così gli ebrei non ce ne sono mai andati nemmeno quando li hanno incacciati nemmeno nel 70 dopo Cristo quando è stata conquistata dai romani questa città Churchill diceva a chi deve essere data mai Gerusalemme se non agli ebrei questa era una cosa talmente palese ed evidente per cui non c'era questione beh ci sarebbero tante mai cose su cui uno è sempre tentato di cercare di ristabilire la verità io voglio concludere perché se no parlo troppo dicendo dicendo questo se un attacco antisemita di queste dimensioni avesse avuto luogo o avesse luogo in tempi diversi gli ebrei dovrebbero avere una terribile paura dovrebbero pensare che può ritornare un'autentica Shoah a dimensione di massa beh oggi questo non è possibile perché esiste lo Stato di Israele questa è una cosa di un'importanza fondamentale non solo ma noi insomma viviamo in questa terra vedendo ogni giorno dei meravigliosi atti di eroismo tu Lorenzo ti riferivi a questo vedendo come il paese pur in una situazione di democrazia estrema in cui le parti non fanno altro che scontrarsi litigare la sinistra e la destra non si possono soffrire le manifestazioni non finiscono nemmeno in tempo di guerra appunto si chiedono elezioni in momenti in cui qualsiasi altro paese si dedicherebbe invece a cercare di vincere in maniera unita questa guerra di sopravvivenza nonostante tutto questo Israele è un paese appunto in cui vivendo si può seguitare a dire che è un paese meraviglioso qualsiasi altro paese assediato da tutte le parti in cui è cascato un missile dei Houthi su Tel Aviv l'altro giorno un altro missile degli Hezbollah al nord uccidendo una famiglia che stava viaggiando in macchina in Galilea o sul Golan forse sul Golan è un paese che è corso nei rifugi a tutte le latitudini compreso qui in casa mia naturalmente a Gerusalemme e diverse volte è un paese che ha i ragazzi che tutti i giorni vengono feriti purtroppo anche perdono la vita per difendere oggi c'è un mio figlio piccolo c'è un maestro che gli dà diciamo così ripetizioni che va e avviene perché continuamente viene richiamato nel Miluim e parte oggi era oggi è ritornato con la grande gioia di tutti poi domani riparte noi non sappiamo in quanto pericolo vive queste giornate terribili uno che sta a Gaza o che sta al nord ogni momento rischia la vita e ci va volentieri e anche quelli che vengono feriti fanno di tutto per ritornare immediatamente a combattere sul fronte e guardate e questo è molto importante ciascuno di loro ha una mentalità che non ha niente a che fare col militarismo niente non è nessuno qua è militarista tutti appunto hanno invece una mentalità in cui la vita la cultura il fare del bene l'aiutare chi ha bisogno viene sempre al primo posto questo lo dico senza nessuna retorica questo senso di solidarietà io credo sia veramente parte della tua del tuo sogno di liberalismo ecco questo è questo è israele questo è quello che è tuttora quello che rimane e questo è anche dal punto di vista della sua capacità di vincere le guerre finisco dicendo che ieri per colpire questi cuti che ci stanno seguitando a sparare ci hanno già mandato 200 fra missili e e droni gli stessi droni che l'iran vende a Putin per colpire l'ucraina anche questo è molto importante che si capisca che c'è una grande coalizione da una parte e dall'altra parte una confusione che prima o poi si dovrà necessariamente ricomporre in uno scudo di difesa perché invece Putin è quello che ha ricevuto Hamas parecchie volte immediatamente dopo il 7 d'ottobre non l'ha mai condannato usa i missili dell'iran si incontra con gli iraniani in continuazione quindi insomma c'è una coalizione ecco volevo dire questo che andan che per colpire a odeida noi non gli abbiamo tirato un missile vigliacamente come fanno loro senza sapere dove si va a colpire i nostri ragazzi sono saliti su degli f15 e degli f16 e sono andati fin laggiù a 2000 chilometri di distanza per essere sicuri di non mancare l'obiettivo che fosse proprio quello sfidando la morte perché questo è stato un viaggio così lungo guidando un aereo da combattimento sopra capite non so se avete presente la mappa vero passando sopra l'Arabia Saudita e sopra altri so se siano io non so sopra che cosa siano passati certamente perché nessuno lo sa certamente non è stato un viaggetto di turismo non è stato un viaggio facile ecco questi sono questa è l'aviazione israeliana ha fatto 1800 chilometri per arrivare fin laggiù ne potrebbe fare se è necessario 1600 per arrivare a Teheran ne può fare 350 per arrivare a Beirut tutte queste sono cose che se c'è se ce n'è necessità Israele è pronto a fare Israele sta combattendo disperatamente per difendere un piccolo paese che vuole vivere e che ha diritto a vivere sta combattendo disperatamente per riportare a casa i propri rapiti e per cercare di salvare la vita a quelli qui quindi io vi vedo alcuni di voi vi invito appunto a restare al nostro fianco perché siamo appena all'inizio di questa battaglia anche se speriamo che a casa i tempi non debbano essere così lunghi le cose stanno andando meglio speriamo che si concludano a perlomeno a casa abbastanza rapidamente mi fermo qua anche se ce ne sarebbe da raccontare grazie a fiamma solo lei sa fare di queste questa tematiche con la passione di aver vissuto oltre che aver scritto questa questa situazione drammatica vivendo là e noi siamo abituati ad avere fortunatamente molte persone ci seguono e che spesso voglio intervenire quindi se riesco perché nel solito quando serve il computer si impalla c'era una persona che voleva intervenire scusate io sono qua io sono qua non so se si fiamma un grande abbraccio caro di di parla scusate non vedo più il video ti vediamo anche se poi sì ma credo che mi vediate no ti vedo benissimo c'è sì ho guidato marco grazie con noi no grazie a voi come al solito a lorenzo che fa degli incontri meravigliosi stasera è molto importante perché il tema che viene trattato è ovviamente molto importante guarda di fiamma insomma reduce dell'assemblea di più europa che mi ha molto indignato perché per la prima volta credo nella storia radicale nella storia liberal democratica di fondamento radicale è stata approvata una mozione un ordine del giorno in cui si mette non dico sullo stesso piano israele e e hamasa i palestinesi però si chiedono interventi a favore palestinesi in particolare il cessato del fuoco di fronte alle violenze vengono fatte dal direle sono indignato ho cercato in tutti i modi impedire che venisse approvata ma non è possibile mi pare che più europa di cui faccio parte qui sono stato candidato all'europea di cui sono membri di direzione abbia dopo l'europea fatto una svolta verso il fronte popolare italiano e questo è un primo segno di adeguamento vedremo se così non sarà me lo auguro ma certo la mozione approvata ieri mi ha disgustato profondamente perché perché tutti noi che abbiamo una visione realistica di ciò che sta succedendo oggi sappiamo benissimo che i palestinesi di hamas in particolare quelli più armati quelli più rafforzati dai finanziamenti dei paesi arabi e dagli cosiddetti aiuti dei paesi occidentali hanno un'unica volontà che hanno sempre espresso senza titubanza cioè quella di compiere un genocidio nei confronti di israele di distruggere e lo stato israele e possibilmente di ammazzare tutti gli ebrei che riescono a raggiungere non c'è popolazione civile a gaza c'è una popolazione compromessa anche nei bambini perché i bambini saranno allevati come militanti della rivoluzione anti ebraica non c'è una una situazione in cui le famiglie sono complici di amasse non si è mai sentita in questi decenni dal 2005 2007 ma non si è mai sentita una voce dentro amasse che dicesse dentro gaza che dicesse basta con amasse dicono certo perché è pericoloso sì ma è pericoloso ma tanti hanno vissuto nel pericolo cercando di ribellarsi alle dittature anche alle più feroci persino in germania ci sono stati degli anti nazisti che hanno sacrificato la loro vita durante il nazismo in palestina nella parte di amasse senza l'altro queste volte non si sono mai sentite e fuori dalla palestina dove vivono centinaia di migliaia non so milioni di palestinesi si contano sulle dita di una mano se ci si arriva le voci che hanno espresso contrasto nei confronti di amasse e non mi si dica che i palestinesi che vivono negli stati uniti in inghilterra in italia non possono parlare perché temo le ritorsioni beh basta che si mettano un po insieme che si uniscano allora le ritorsioni non sono possibili no non è così i palestinesi vivono di vittimismo vivono di sostegno alla loro disgrazia che solo quella di non aver voluto accettare nel 1947 48 il loro stato e di non aver concludere con voler concludere quei patti che erano arrivati all'ultimo miglio ma che all'ultimo miglio sono stati disfatti dai loro dei loro rappresentanti allora non si può dimenticare tutto questo non si può dimenticare che la forza dei palestinesi sta soltanto nel vittimismo e che alle volte il vittimismo certamente si traduce in vittime ma queste vittime sono costruite politicamente si vogliono le vittime si vogliono i marti perché i fondi continuino ad arrivare a gaza e continuano arrivare dove devono arrivare perché le ONG continuino a essere presenti sul territorio palestinese perché i alla fine si abbiano armi a sufficienza per poter distruggere israele invece di costruire ville sul mare o eh metropolitane nelle città o strade asfaltate ovunque i palestinesi hanno voluto costruire tunnel sotterranei per far passare gli armamenti per distruggere israele e che oggi si venga a criticare la reazione di israele perché produce troppi bambini morti troppe donne morte è un atto di moralismo non di scelta politica e di valutazione storica delle responsabilità ecco il moralismo che distrugge la politica e che non fa trovare le soluzioni io ieri ritorno a questa disgustosa vicenda di più Europa sono almeno riuscito a inserire due stati due popoli a cui ci si richiamava due stati due popoli due stati democratici come pannella sempre detto nel corso della sua vita si può arrivare alla pace soltanto se anche i palestinesi accetteranno di costruire uno stato democratico e magari si federeranno con israele e non ci sarà più possibilità di minaccia da parte dei palestinesi nei confronti degli israeliani siamo ancora lontanissime da questo ma non per colpa di netanyahu tu fiamma lo sai quanto io critichi netanyahu e le sue politiche da tanti anni ma certamente non è colpa di netanyahu se la responsabilità anzi è responsabilità ma responsabilità positiva di netanyahu se di fronte al massacro nazista del 7 ottobre netanyahu netanyahu ha deciso di mettere fine per quanto possibile a questa vicenda quindi io ringrazio te per il lavoro che fai quotidianamente coi tuoi libri e ringrazio tutti coloro che non si fanno offuscare la mente dal dal dall'atteggiamento ONG ONG finanziate anche queste che hanno aiutato anche queste militanti di Hamas a nascondersi a preparare i ruoli delitti non si fanno offuscare la mente guardano quello che è l'interesse della libertà della democrazia di tutti noi in occidente oggi chiudo israele sotto attacco da parte degli uti di Hamas di esbolla vale a dire sotto attacco dell'iran se l'occidente non capisce che utin e i teocrati di dell'ira sono una minaccia alla nostra cultura le nostre libertà al nostro stile di vista al nostro modo di essere così attraente per il resto del mondo e quindi così combattuto combattuto per interposta persona in questo momento israele se in occidente tutti noi destra sinistra centro quel che sia non ci convinciamo di questo diamo tutto il sostegno possibile in questa fase israele vuol dire che abbiamo un istinto suicida esatto esattamente grazie vedete qualche problema ecco hai due video e quindi hai la voce che rimbalza l'uno all'altro non ho questa ambizione di moltiplicazione guarda Lorenzo ti vediamo con l'odi liberale e con Lorenzo Maggi lo so c'è qualche problema con i miei mezzi intanto volevo tanto grazie a Marco che dal solito quando ci sono questi temi è sempre presente adesso vogliamo di fare in modo che questa cosa finisca perché voleva intervenire un'altra persona a cui do subito la parola che ti conviene commentare perché purtroppo non riesco oggi guarda funziona così c'è un comporto tecnologico fiamma se vuoi come dire commentare ringrazio Marco per il suo intervento molto molto interessante io non sapevo questa cosa in più europa me ne dispiaccio particolarmente appunto perché io ho un legame col mondo radicale molto profondo molto antico tutte le mattine parlo a radio radicale raccontando le cose come stanno e ho sempre trovato profonda comprensione Marco è un mio amico carissimo e lo segui da essere in questa cosa io devo dire una voglio dire una cosa due stati per due popoli è ormai una formula impresentabile per parecchi motivi e soprattutto perché distruggere accordi di oslo che è l'unico straccio di cosa ancora rimasta gli accordi di oslo prevedono che le due parti si debbano sedere e discutere in che modo concludere la disputa questo fatto che le due parti debbano potersi riconoscere come interlocutore è fondamentale perché che cosa vuole di cosa vorrebbe dire questo vorrebbe dire quello che appunto che verrebbe a cessare il fenomeno che Marco denunciava molto bene ovvero che i palestinesi vedono israele e gli israeliani semplicemente come degli dei nemici da distruggere da eliminare ovvero li vedono in maniera genocida purtroppo siccome Marco è di buona indole io molto meno lui vede Hamas come il maggiore responsabile ma Marco sa benissimo che ormai l'ottantacinque anche l'ottantotto per cento dei palestinesi dell'autonomia palestinese potessero domani mandare a casa Abu Mazen e metterci Sinuar voterebbero per sinuare per forza senz'altro è una cosa che è stata ormai verificata con un sacco di inchieste e di lavoro numero uno numero due l'autorità palestinese non ha mai condannato il 7 ottobre si è sempre rifiutata di farlo e questo mi sembrava veramente diciamo così un elemento basilare per potersi sia pure lontanamente immaginare che quella cosa lì che vogliamo chiamare stato palestinese che numero uno non è mai esistito numero due non si sa dove dovrebbe essere che cosa dovrebbe fare che non ha mai espresso non dico il desiderio di essere uno stato democratico perché proprio non ci pensa nemmeno ma nemmeno di non essere uno stato teocratico perché ormai invece tende tutto quanto in quella direzione in quanto aderisci al modello Hamastan che è la società che tu descrivevi cioè la società di Gaza è più nemmeno che una società nazificata anche la società nazista aveva questa caratteristica per amore o per forza per passione ideologica o per paura di essere fatti fuori sino da bambini piccoli e qui anche con l'aiuto dell'ONU però e questa cosa non bisogna mai perderla di vista perché se non ci fosse l'UNRWA che ai bambini fin dall'età di due anni li lascia li lascia li fa diventare dei terroristi mettendogli in piedi delle recitine in cui si uccidono si fa pum pum ammazzando a due anni gli ebrei e si chiedono quanti ebrei hai ucciso e poi si fanno le sottrazioni e le somme se c'erano sette ebrei e tu ne hai uccisi quattro quanti ne sono rimasti sto citando quota in quota e non è che me lo sto inventando questi esempi se non ci fosse l'UNRWA che ha fatto tutto questo lavoro e che poi lo ha coronato andando personalmente i suoi maestri a stuprare le donne e poi a prendere le prigioniere a portarsele a casa quelle sopravvissute e a tenersele come schiave in casa questa è l'UNRWA questa è l'UNRWA dell'ONU finanziata dall'ONU e rivotata dall'ONU e per cui l'ONU chiede che non ci siano sanzioni da parte degli stati membri questo questo mi fermo qua sono da tutto d'accordo sulle cose che ha detto Marco e mi domando soltanto se non c'è più nulla da fare non si potrebbe fare una contromozione per esempio no eh abbiamo avuto l'assemblea così si è conclusa alla prossima assemblea si potrà fare se più Europa continuerà ad essere qualcosa di dentro la quale si può fare politica vedremo grazie Marco intanto da un Marco all'altro sono tornato semplicemente unico Marco Riccaboni nostro amico socio e l'ultimo presidente di Amici Israele di Lodi Marco sono felicissimo che ci sei a te la parola buonasera a tutti buonasera buonasera Marco Tara che ci erano conosciuti tanti anni fa a Lodi e varie riunioni radicali e anche un ciao a Ludovica che ormai ci seguo abbondantemente allora io sono rimasto scioccato ovviamente come tutti dal dalla violenza inaudita delle degli eventi del 7 ottobre ma quello che più mi ha colpito è la simmetria informativa ovvero quando io vedo i cosiddetti massacri compiuti dall'IDF in terra di Gaza vedo dettagli precisioni nelle nell'informazione mentre in una certa qual modo c'era stato un velo quasi a non voler offendere per la parte invece successa 7 di ottobre l'impressione che spesso e volentieri tra l'altro le immagini che arrivano da Gaza sono dei falsi perché arrivano dalla da vecchie immagini siriane e cose di questo tipo quello che a me colpisce è che palesemente c'è una secondo me ma la fede da parte dei giornalisti che non siccome io ho la fortuna di vedere il canale di Dario Sanchez e seguo Ludovica ma questi vanno sul posto per verificare le notizie la non prendono e riportano i dati forniti da massa come se fossero Vangelo e che anche tra l'altro se fossero Vangelo io da giornalista siccome dico dovrei andare comunque a verificare se effettivamente sono veritiere le notizie spesso e volentieri io rimango stupefatto dai telegiornali che mi mandano il loro rappresentante da Gerusalemme o se va bene o da Tel Aviv ma se non vai sul posto come fai a dare una descrizione di quello che sta succedendo l'altro aspetto di cui volevo se posso dire un'altra cosa che a me colpisce è il mondo occidentale che rifiuta la violenza e dirò ci può anche stare perché siamo stanchi di guerre però ci si dimentica di Ciamberna e Dalladier nel 40 39 e poi sappiamo cosa è successo io capisco che il rifiuto della violenza di vedere ragazzi morti è una cosa importante ma rifiutare la guerra sempre e comunque non capendo che dall'altra parte ci può essere qualcuno che la guerra me la fa lo stesso e mi sembra quantomeno miope e molto pericoloso far finta di non vedere che attorno al mondo occidentale ci sono infinite forze oserei dire del male ma comunque sicuramente di di nazioni e popoli che non ci amano assolutamente intanto grazie per uno degli grandi insegnamenti radicali era la differenza fondamentale tra non violenza e pacifismo e quindi tra l'essere pacifici e pacifisti e non violenti concetti assolutamente diversi perché ci sono dei momenti in cui purtroppo fisiologicamente è necessario prendere le armi la cosa paradossale è che ci siano pacifisti partigiani o perlomeno eredi dei partigiani perché i partigiani hanno sconfitto fortunatamente il nazifascismo grazie al fatto grazie agli angloamericani a ogni tipo di partigiano liberale monarchico socialista democratico e anche comunista e anche grazie agli internati militari che all'epoca hanno deciso di non aderire alla repubblica sociale e grazie anche del piccolo ruolo poi lascio la parola in questo caso anche ludovica per rispondere alla domanda anche alla gloriosa di cui abbiamo già dedicato due serate e una mostra quando ero se sono alla cultura brigata ebraica di cui ha fatto parte peraltro anche il padre di fiamma ludovica se vuoi rispondere all'intervento di marco e poi fiamma o se vuole anche giorgio sì assolutamente il problema all'interno della nostra stampa lavorando avendo lavorato comunque per per diversi media è proprio endemico cioè c'è un pressapochismo scusatemi non voglio adesso però per contestualizzare e rispondere a marco c'è proprio pressapochismo cioè da un lato molto spesso si tratta di temi di cui non si domina l'argomento eh si ci si butta perché adesso il tema è parlare di non so israele o gaza o ucraina e russia domani tra poco saranno le le presidenziali negli stati uniti insomma eh non c'è specializzazione per così dire nella formazione dei dei giornalisti nei temi non c'è ehm nelle redazioni insegnamento nel capire quando quando la notizia è vera quando non è vera come si verifica una fonte come non si verifica e poi molto banalmente è un sistema assolutamente glenterale cioè non ci sono eh spesso non è ehm non è ehm accessibile a tutti eh non è eh meritocratico anche se odio questa parola ehm io penso che la nostra società sia assolutamente fallita nel momento in cui un intellettuale o comunque una persona di cultura decide di non occuparsi di cultura perché eh può fare tranquillamente altro perché molto banalmente vive meglio eh io lo dico sinceramente non non so se farò questo lavoro nella vita perché eh anzi eh perché non non ci sono prospettive tali che mi possano portare a anche banalmente tra cinque anni ehm permettermi di avere una famiglia, un figlio e comunque realizzarmi anche da un punto di vista personale quindi scusate adesso non volevo troppo rivedere però per dire che tutto questo sistema è è è assolutamente ehm eh difettoso dal suo interno quindi non è solo ma la fede del giornalista che nel caso italiano ehm proprio perché il sistema è strutturato così si può permettere anche di non sapere quello di cui parla e questo poi a catena si ripercuote su il votante, l'elettore che quindi vota male perché non capisce neanche quello che dice il politico, non sa distinguere se il politico è preparato o non è preparato e questo sfocia nel populismo degli ultimi anni che stiamo vedendo che ha sicuramente incidenza tramite il male del mio tempo che sono i social network, paradossale che io lo dica perché io li uso, lo so, però eh mi rendo conto che insomma se potessi scrivere sulla carta e se ci fosse solo esclusivamente la carta lo farei. Quindi insomma è tutto un sistema per cui anche poi le redazioni molto spesso non inviano persone inviati, preparati eh che magari non conoscono le lingue anche perché in questa guerra dato che stiamo parlando di Israele conosce l'ebraico, conosce l'arabo, predominare sicuramente l'inglese, confrontare le narrazioni di guerra anche se non si conoscono attraverso traduttori o comunque fare un'operazione di comparazione è fondamentale, è fondamentale. Quindi ecco, mi dispiace Marco, penso, provo la tua stessa tuo stesso tipo di indignazione nei confronti di questo mondo, mi dispiace per chi riceve informazioni sbagliate e mi dispiace anche per la categoria del giornalismo che ne perde e che dire, se non avremo più voglia di tornare a investire ma in maniera insomma concreta nel anche dare possibilità alle nuove generazioni e magari ripartire da quelle vecchie, ecco, poi ci troveremo un bonus che di fatti abbiamo, infatti abbiamo un problema. Finalmente sono in disaccordo su un punto con Ludovica, cioè sul fatto che i social siano in male di nostro tempo perché come tutti i mezzi dipende da chi li usa e da come vengono utilizzati, invece spesso sono fondamentali perché io ti ho scoperto grazie ai social, tu hai fatto un grande lavoro grazie ai social eccetera, quindi mi spiace che ci sia comprensibilmente questo approccio comunque che poi arriva alla negatività per tutte le esperienze che per mille motivi sta vivendo. Giorgio Sacerdoti se vuoi intervenire, eccoti, ti vediamo, adesso anche giusto, se attivi l'audio riusciamo a sentirti anche, poi diamo la parola a Fiamma, non ti sentiamo perché ti ha disattivato l'audio. Scusate, no vi ho seguito, è molto interessante. Ho una domanda a Fiamma, come cittadina di Israele che vive in Israele e quindi partecipa a Bon Gré, a questi difficili momenti e all'evoluzione che ha avuto lo Stato e il Paese in decenni. Cioè la visione da fuori di Israele è un po', secondo me, dissociata. Cioè, da un lato c'è un Israele moderno, democratico, civile, tecnologicamente avanzato, ad altro reddito, parte quindi delle nazioni più progredite, diciamo. E anche militarmente forte, alleato con gli Stati Uniti d'America, nonostante tutto, che lo fornisce di armi, di miliardi di dollari, che supera tutti i vicini, con i vicini più importanti che anche in questo momento non hanno attaccato, criticato a Marx, ma comunque sono rimasti tranquilli, l'Egitto, la Giordania, soprattutto. E dall'altro lato c'è invece questo Israele assediato dall'odio, l'islamismo montante, i palestinesi che non intendono assolutamente venire, diciamo, a più miti consigli. L'ONU che continua a sostenere di fatto nelle correnti estremiste la Corte internazionale, l'Assemblea, che accetta criticamente posizioni tradizionalmente anti-israeliane. Ecco. E come si riconciliano queste due visioni che coesistono? Com'è che lo vive qualcuno in Israele come te? Tu dici gli accordi di Oslo, ma mi sembra che Netanyahu il governo, ha detto che gli accordi di Oslo sono morti. Lì ho sentito un amico che diceva ma i giornalisti non vanno su luogo. Mi risulta che l'esercito israeliano non ammette giornalisti. A Gaza non ha neanche quelli embedded come hanno gli americani in Vietnam o avevano in Afghanistan. però io ricevo un WhatsApp ogni mezz'ora, Israel Life Now, ti fa vedere i bombardamenti, i soldati che vanno alla ricerca dei tunnel, le bombe che vengono messe dai terroristi nascosti sotto il camion. Quindi non è che l'informazione non c'è. Ecco, questa è la mia domanda a Fiamma soprattutto. Sì, allora, i giornalisti embedded con l'esercito vanno dentro, ce ne sono stati di tutti i generi, dalla CNN a tutte le testate israeliane che vanno dentro a voglia, insomma, io i soldati li ho incontrati in continuazione ovunque. Certo, stavano a fissare degli appuntamenti, sono cose complesse, però non c'è, non ci sono limitazioni se non dovute a motivi ovviamente di sicurezza, però la stampa circola. Naturalmente non è che te, diciamo così, puoi andare ovunque bel bello senza che ti accompagni qualcuno. Beh, certo. Quindi questo per forza è così, però diciamo la libertà di stampa mi sembra che sia stata ultra garantita. Allora, detto tutto, detto questo, aspetta, perché c'erano un paio... Sono le due immagini di Israele, insomma, Israele è forte e avanzato, Israele invece è assediato e minacciato da Ode... Beh, diciamo, l'una riguarda l'interno di Israele. Israele è tuttora la start-up nation che era prima. Non è che questo si sia modificato, se non per il fatto che i protagonisti delle start-up al momento sono costretti ad andare nel Miluin, cioè nelle riserve ogni volta che li richiamano. Cioè, diciamo così, che c'è una cosa che stravolge la realtà di Israele, paese ultra procredito, che ha superato il Covid di un balzo senza tanti morti, nel momento in cui invece tutti gli altri paesi occidentali ne venivano farcidiati, ovvero i suoi vicini. Israele è posta in un environment che lo costringe periodicamente a delle contrazioni e in generale queste contrazioni hanno un carattere bellicistico che lo fanno soffrire moltissimo, ma che sono però indispensabili, necessarie. Che cosa vuoi che faccia? Quanto agli accordi di Oslo, certo che sono morti dal punto di vista della possibilità di fare un accordo. Ora come ora non fai gli accordi con nessuno, perché non c'è un interlocutore con cui sia possibile farlo. Però io appunto dico, era un modo di spiegare che chi dice oggi due stati per due popoli, a lei va persino, cancella persino l'unica cosa che ancora non è stata cancellata del tutto, diciamo ufficialmente, che sarebbero appunto gli accordi di Oslo, che sono anche quelli che stabiliscano le famose aree ABC in base alle quali poi dopo devono venire fatti degli accordi che ristabiliscano una situazione territoriale in cui Israele però possa godere di quella sicurezza che ora non si sogna nemmeno, che è la cosa di cui parli te. Cioè la domanda tua è come fa Israele a restare un paese felice, avanzato, un sogno, va bene, nel momento in cui ci sono terroristi a tutte le parti. La domanda è un'ottima domanda, è un'ottima domanda a cui però non esiste nessun'altra risposta che non sia quella di difendendosi, non ha nessunissima altra possibilità che non quella di difendersi. Non c'è nulla che possa dare che porterebbe questi nemici circostanti ad accettare una mano tesa, perché questa mano è stata tesa a decine di volte, alle volte in maniera terribilmente consistente. L'accordo che Olmert proponeva era, gli dava quasi tutta, gli dava Gerusalemme Est praticamente in maniera quasi totale e oltre a una quantità di territori che praticamente copriva tutte le sue richieste, copriva il 98% delle sue richieste, per cui non è quello che vogliono, come diceva anche Marco prima, quello che vogliono loro è la distruzione dello Stato Israele. Questo Israele non gliela può dare e di conseguenza non può altro che difendersi. Ora con gli Ezbollah, come siamo messi? Messi male. Qui la tua domanda è particolarmente buona, perché? Perché in questo momento gli Ezbollah sono riusciti a buttare fuori da tutti i kibbutz e le cittadine, compresa Kiriachmona, che è una grande città di confine, la gente, le città sono città fantasma, i kibbutz sono fantasma, ci siamo persi, diciamo, un sesto del territorio fra il nord e il sud perché la gente non ci può più abitare. Ma noi è chiaro che non gli possiamo dare questo territorio perseguitare a farne uno spauracchio nazionale. Di conseguenza non c'è altro che mettere il paese della Startup Nation a servizio di quello che deve per forza combattere. È un peccato perché ne facciamo di meravigliose quando non ci rompono troppo le scatole, ma al momento la faccenda è tale per cui ci dobbiamo necessariamente muovere in questa guerra di sopravvivenza. Detto questo voglio aggiungere una cosa sulla guerra di sopravvivenza. Le notizie, va bene, dove le beccano questi giornalisti? Ma in gran parte da Al Jazeera, va bene, da Al Jazeera. Oppure cosa dicevano? Dicevano secondo il Ministero della Sanità di Gaza il numero dei morti è tot e tot. È una cosa, è un'affermazione talmente ridicola il Ministero della Sanità di Gaza che se osasse mettere fuori un numero a cui Sinuar non ha messo uno stampino prima non potrebbero nemmeno respirare. Va bene, per cui è ridicolo quello che hanno tirato fuori. Sono tutte balle che un qualsiasi giornalista, non dico preparato, ma per carità, non uso questo termine, un po' un giornalista con un po' di buonsenso non le dovrebbe usare. E allora perché? Perché le usa? Ma perché? Ma perché sono dei decenni che i giornalisti sono per la maggior parte dei conformisti benestanti tendenti a sinistra. Questo è un dato di fatto. Io, scusa? No, no, prego, prego. Io ho sempre, ecco, appunto, sono una categoria la cui, il cui opportunismo, la cui paura di offendere il senso comune, il cui, il cui conformismo, conformismo, il cui, la cui paura di non essere invitati a cena oppure di litigare quando siedono a un tavolo della cena supera ogni, supera ogni registro professionale possibile. Perché altrimenti, e qui dico una cosa molto concreta, lo sforzo bestiale con cui Israele ha seguitato a mettere dentro centinaia e centinaia di camion di cibo, di cibo, di bevande e di medicine dentro Gaza, cosa che non fa nessuno, con cui ha seguitato a avvertire sempre tutti quanti prima di bombardare. Per cui ha seguitato a fornire, quote in quote, la solita quantità di acqua mentre la accusavano di assetare i poveri palestinesi, che entrava a Gaza subito prima, il giorno prima del 7 di ottobre, tutte queste cose sono state censurate. Le avete lette sui giornali? Le scrivo io. Ecco, scrivo io. Ma è qualcun altro? Cioè, ci sono dei giornali dove ci sono dei giornalisti molto, molto bravi. Poi ci sono dei giornalisti che hanno accesso come Ludovica, appunto, ai social media e a tante altre cose importanti che anche loro le raccontano. Però la grande stampa che cosa ci dice? Ci dice che era pericolosissimo entrare a Rafa, era la cosa più spaventosa del mondo e che Biden aveva ragione a dire di non entrare a Gaza, a Rafa. Se eravamo entrati a Rafa, quando era il momento di entrare, questa guerra era già molto più avanti. Probabilmente molta o meno gente avrebbe sofferto e Hamas avrebbe potuto utilizzare molti meno scudi umani di quanti non ne abbia usati fra la sua popolazione e che non ha mai avuto il permesso di andarsi a rifugiare nei tunnel. Perché i tunnel non hanno mai, guardate, anche questo è una cosa molto interessante, insomma, serviti dal rifugio alla gente di Gaza. Avete mai visto un'inchiesta in cui gli si chiedeva ai cittadini, chiuse le virgolette, di Gaza, come mai non vi andate a ficcare sotto nel momento in cui Israele bombarda. Non mi risulta che ci sia stato niente di questo genere. Perché? Perché Hamas sparava a chi si avvicinava ai tunnel che gli servivano a tenere, che gli servono a tenere i nostri hatufim, i nostri rapiti, le armi. E adesso c'è la storia dello Zir Philadelphia, cioè del confine con l'Egitto, ma quel confine è quello da dove sono entrati e usciti entrati e usciti i terroristi con l'Egitto portando dentro armi in quantità. E adesso noi lo dovremmo rilasciare lì per rispettare l'ipotesi per cui bisogna assolutamente non avere lì dentro neanche più un uomo. Così nel giro di un anno succede di nuovo che abbiamo un altro attacco uguale a quello del 7 d'ottobre. Ma a quale popolo si potrebbe, al popolo italiano si potrebbe chiedere una cosa di questo genere? Vorrebbe dire dargli di cretino e io non credo che gli si possa. Io sono anche italiana, mi offenderei moltissimo anch'io se si chiedesse al popolo italiano. Ok. E per parlare, grazie Fiamma. È mezzanotte meno 10 da me, eh? Da voi. No, no, lo so, ma c'è un intervento a cui riteniamo perché nonostante la maglietta rossa e nonostante venga da Bologna, è un liberale d'ocche da Roberto Bolzani. Quindi ti lasciamo la parola e poi chiudiamo. In 5 minuti prossimo abbiamo chiuso. Roberto, a te. La maglietta rossa contiene una frase di Clint Eastwood che dice, se vuoi delle garanzie della vita, compro un tostapane. Quindi è tutt'altro che rossa. Vai e toaster. Esatto, vai e toaster. Ringrazio moltissimo i relatori per questa interessantissima e bella discussione. Io sono rimasto veramente colpito il 7 ottobre, come qualunque persona ragionevole pensavo dovesse essere colpita dall'obominio di quello che era successo. Ma non è così. Come dice nella chat un altro, lo sapete benissimo, come dice nella chat un altro bolognese, qui nel palazzo popolare è esposta la bandiera di Amas. Giacomo Sanzani che ringraziamo. Esatto. E il sindaco si è espresso a favore, insomma, ha espresso solidarietà ad Amas. E il limite è questo. Allora io mi chiedo perché. Scusa, ti ho interrotto io. Ed è esposta la bandiera della Palestina dal comune, sostanzialmente. Dal comune, sì, sì, sul palazzo del corso. Che vergogna. Il sindaco si è espresso a favore di Amas. È abbastanza normale sentire questo qui. Perché questo succede? Io non credo che sia, c'è un tema di disinformazione sicuramente. C'è un'informazione nel senso unico che guida le sensibilità in un certo modo. È d'accordo. Ma io credo che ci sia un grande equivoco che consente alle persone di accettare questo, quello che è successo. Ed è l'equivoco. È che la lotta del popolo palestinese sia una lotta in qualche modo risorgimentale. Cioè che serva alla costruzione di uno Stato. E quindi è sentita come un equivalente di quello che è stato un problema di risorgimento. La costruzione di uno Stato nazionale. E questa secondo me è una cosa che andrebbe spiegata. E non è così. Cioè l'intento dei palestinesi è di distruggere Israele. Non è quello di creare uno Stato. Credo che condividiate queste cose. E una delle cose che mi ha colpito del discorso, delle parole di Fiamma di Einstein è stato questo. Sul militarismo. Noi siamo sotto attacco all'Occidente. Sicuramente non c'è solo Israele, c'è l'Ucraina. E di fronte a questo attacco dobbiamo scoprire la capacità di fare la guerra. La guerra ovviamente non deve essere... Anche nella guerra noi mostriamo civiltà. Perché giustamente i piloti israeliani arrivano sull'obiettivo, lanciano bombe di precisione. E' inutile fare dell'ironia sulle bombe intelligenti. Si fa il possibile per limitare gli attacchi. In Occidente si fa così. L'esercito americano fa così. Noi quando ci muovevamo facciamo così. Facciamo il possibile per limitare l'attacco agli obiettivi militari. Di là si attaccano i civili. I russi lanciano le bombe indiscriminatamente. Non sono in grado di prendere la mira e quindi, oppure anche se sono in grado, la loro è guerra di distruzione, di massa. È guerra che colpisce i civili. E questo è, oltre a un crimine di guerra, è una cosa che ci dovrebbe discriminare. Per concludere, per un liberale è difficile pensare che si debba fare la guerra. Però io penso che dovremmo riscoprire questa cosa. Non dovremmo riscoprire la guerra perché siamo sotto attacco e dobbiamo imparare a fare la guerra con le nostre regole e insegnarlo a chi? Agli incipini che non hanno ancora imparato. Grazie. Fiamma un breve commento e ci abbiamo a conclusione. Un breve commento è che ha perfettamente ragione, ma noi sappiamo fare la guerra. Quindi, insomma, diciamo, noi abbiamo un esercito molto, molto ben organizzato. Il fatto che non ci sia una mentalità militarista dipende dal fatto che questo è veramente un esercito di popolo e che quindi tutti e quanti hanno un training di tre anni. Il servizio militare qui dura tre anni, come sai, benissimo. E ognuno ha una sua specialità. Nei ragazzi c'è fortissimo il desiderio di essere in una unità cravico, come qui si dice, cioè di combattimento. E guai, le famiglie naturalmente cercano tutte di limitare questo desiderio, ma invece i ragazzi proprio lo impongono pagando alle volte prezzi altissimi, pagandoli loro, pagandoli la loro famiglia. Io sono stato in Israele, non per interrompere, sono stato in Israele tanti anni fa e ho visto cosa vuol dire i militari che vanno in spiaggia con... Esatto. Quindi ho visto che veramente... Esatto, allora lo vedi, è esattamente quello che voglio dire io. Qui te vedi un sacco di ragazzi in giro, adesso sono tornati perché c'è stato un periodo e qui ci sarebbe tutta la questione su come si è arrivato al 7 di ottobre, ma lo facciamo un'altra volta. Nel libro si tratta di questo, se ne parla, ci sono delle pagine dedicate al perché ci hanno fregato in questa maniera. Questo è un altro aspetto della questione, ma invece tornando a quello che dicevete prima, questo intendo dire quando dicevo non c'è militarismo, non volevo affatto dire che c'è disprezzo o disdoro o lontananza dall'idea della guerra, niente affatto, si è molto fieri di essere... c'è molto amore all'interno delle unità fra i ragazzi, i ragazzi poi qui... quando dico non c'è militarismo, cosa voglio dire? Voglio dire che vedi i ragazzi qui per le strade con il mitra a ciondoloni, questo non gli dà minimamente, come posso dire, un senso di essere superiore agli altri. E' un oggetto, un oggetto indispensabile, necessario, che qui per forza te lo devi portare dappertutto, mentre sei militare non lo lasci mai, te lo porti a casa, quando sei seduto al bar te lo tieni qui fra le gambe ed è per fortuna lo fai, perché altrimenti si rischia continuamente la pelle. E questa è la situazione. Ora speriamo che le cose si aggiustino un po', diciamo che perlomeno in parte si possa ritornare a non essere preoccupati della vita giorno dopo giorno, che questi sette fronti di cui parla Netanyahu giustamente siano, perlomeno da alcune parti si acquietino, ecco, perché abbiamo bisogno di respirare, mentre invece anche tutto il fronte palestinese interno, non quello di Hamas, quell'altro è eccitatissimo, non fanno altro che attaccarci da tutte le parti. O ieri è arrivato un tizio dal Canada, musulmano canadese, ragazzo, giovane, che è andato, si è preso una macchina, un'arma e è andato a ammazzare degli ebrei. No comment. Allora, prima di... È stato fermato appunto da quello che si chiama Kitako Nenut, cioè quel gruppo armato che per fortuna l'ha potuto fermare prima che entrasse nel villaggio e facesse una strage, però queste cose capitano qui, qui capitano e quindi devi essere pronto, devi essere armato, devi sapere combattere, devi sapere capire che per civis pace mi appara bello. Come credo, grazie, come credo stiate vedendo, prima di ringraziare i nostri ospiti di questa sera, settimana prossima chiuderemo la stagione di Lodi Liberale con un tema non propriamente estivo, non propriamente da spiaggia, è un testo piuttosto voluminoso, sono oltre 600 pagine, ma è importante perché è, come dire, seminale in qualche modo, cioè del professor Raimondo Cubeddu, che è un altro nostro amico, un altro nostro socio, che si chiama Epicureismo e Individualismo, per una storia della filosofia politica, insieme a lui ci sarà Giulio Di Ligio, che è il ricercatore associato all'Ecole des Sottestudes e in scienze sociali a Parigi, e peraltro, Fiamma, non so se lo conosci, ma è Enrico Piergiacomi, che è assistant professor in storia della filosofia alla Technion University di Haifa. No, però ascolterò volentieri, se si può, se si può. Assolutamente sì, su Zoom, e quindi chiuderemo in bellezza con un tema impegnativo, ma è importante. Io ci tenevo davvero a ringraziare per questa serata il professor emerito Giorgio Sacerdoti, che abbiamo visto in ogni sua sfaccettatura visiva, nel senso in orizzontale, in verticale, dall'alto, eccetera, ma l'abbiamo soprattutto ascoltato. Grazie, grazie. Grazie di essere stato con noi questa sera, ringraziamo Ludovica Iacovacci, che spero la prossima volta sarà straordinariamente ottimista nei confronti dei social, e quindi vivrà esperienze positive, e spero davvero che invece la carriera giornalistica la faccia, perché ne abbiamo bisogno di giovani e di appassionati come lei. Grazie Ludovica. Grazie mille a voi, grazie. E soprattutto davvero grazie a Fiamma Nirestan per esserci, per scrivere, per avere voglia, carattere, coraggio, e farlo da tanto tempo, ne abbiamo davvero bisogno. Grazie Fiamma. Grazie, grazie a voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte.